Al Caniglia ancora un bel concerto promosso dalla camerata musicale sul Monese, i solisti dell'orchestra La Camera Strumentale Città di Prato. Si tratta di un gruppo di fiati, Elisa Cozzini al Flauto, Michela Francini al Roboè, Francesco Giardino al Tlarinetto, Cristian Galasso al Pagotto e Fabrizio Rosati al Corpo. Il gruppo gamiristico nasce nel 1998 con la costituzione dell'orchestra camerata strumentale Città di Prato. Il quintetto presto ha percorso molta strada, si è esibito nei più prestigiosi teatri italiani e nel mondo, sotto la direzione di grandi maestri come Riccardo Muti, Roberto Abbado, Bruno Bartoletti, ha inoltre collaborato con solisti di fama internazionale come Boris Belkin, Mario Brunello, Andrea Lucchesini ed altri. Il gruppo ha eseguito numerosi concerti per importanti associazioni musicali, festival e teatri come Amici della Musica di Firenze, il Maggio Musicale Fiorentino, le serate musicali di Milano, Amici della Musica di Palermo. Anche all'estero il gruppo ha collaborato con istituzioni musicali importanti in Brasile, in Argentina, Cile, Uruguay, Inghilterra, riscuotendo ovunque grandi successi. Anche a Sulmone il successo non è mancato e il sulmonesi in gran numero hanno risposto all'appello occupando tutti i posti del canino. Sono state seguite musiche di Rossini, Parkas, Ciaikowski, Iber, Gershwin. Grazie a tutti.